2, 3, ok, l'altra volta, 7, 8, 1, 2, 3, ora la destra va verso la sinistra, 5, 6, 7, ok? 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Sì, si spieghiere, però non senti si spieghiere, è il più spieghiere, sì, basta bella birra, che mannaggia, io bevo il caffè e lui bella birra, no dai, e poi si spieghiere, allora, andiamo, facciamo 3, 1, 2, 3, andiamo, 7, 8, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, e 1, 2, 3, e 5, 6, mambo, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, ci siamo ragazzi? Ma è difficile, ma è difficile, vero? Ok, vamos, 7, 8, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, mambo, 1, 2, 3, e 5, 6, 7, 1, 2, 3, vai con 3, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, e io sono così, prima la traduzione è vera, adesso si è incominato l'ultimo.